Ti piace la formazione? Ha tolto le parole di Bo. Cristian Bosco. Io lo volevo dire io e lui l'ha detto molto meglio di me. Non a caso provato in allenamento in quel ruolo e acquistato anche per la sua duttilità tattica, ti può fare delle sorprese non indifferenti. Quindi io mi aspetto una buona partita. L'Aspadore è stato preso per il 4-2-3-1. E questo è il grande problema. Ma anche per un discorso Champions, io non posso far giocare due partite di fila. Simeone che non mi ha fatto due partite di fila da troppo tempo. Non posso rischiare in questo senso. Metto Raspadori perché gioco contro lo Spezia, perché l'ho provato in allenamento e perché mi devo fidare di un acquisto di oltre 30 milioni di euro. Da casa? Che non è una prima buona. Da casa solo da un momento ha triplicato il suo. Quanto? 30-40. Ha triplicato il suo. 30-30. In questo momento. 30-40 adesso. Poi il valore del mercato si vede sul medio-lungo termine. Quindi facciamogli finire la stagione, magari può arrivare anche a 50. Una Luisina ha ragione. Con il destro che si sposta la pallona. Non era preferibile. No, è uno sfogo anche perché si intuisce che da quel lato lì c'è il difensore che sta in netta difficoltà. Non si può criticare. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare, esiste anche l'avversario. Bisogna dire che è stato bravo lo Spezia. L'allenatore dello Spezia ha impulsato la partita sulle ripartenze. Che è un allenatore e quindi non dobbiamo più puntare. Però c'è stata una sola ripartente su Polità, cioè su Direzza, sul fallo su Polità, non sulla destra quando ha fatto quella fine. Come la sostituzione di Anghissà, che è uno di quei calciatori che ha giocato più di tutti e è anche uno di quelli che... Ma sta rispondendo un omistro. Ho detto perdonami con educazione. L'ho detto... L'hai messa per la voce, a me non sembra. A parte che con la caramella in bocca, quando si parla, si sputacchia. Io sto seduta vicino a te, ma sembra giusto. Allora, volevo dire che... Perché siamo felici. Ma se 1-0 non ridi, dopo aver battuto la Lazio, dopo aver battuto il Liverpool, vinci anche con una piccola, anche se di misura, con pazienza, non ridi. Che mi fai? E allora rire. Allora facciamo... Continua, com'è la cosa del colpo di tosse? No, è che ho la brutta influenza di Peppe e quindi... No, ma crediamo. Non mi piace Gaetano? No, 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 no. Il rambio che è stato fatto, da questa parte, c'è lei che ha detto... Tu lo sesso fisico. No, grazie. Ha dato sicurezza e tranquillità come era venuto il party. Siamo quasi violando i diritti della Lega. Amatori. Liverpool. O pull ce l'hanno mangiato. L'abbiamo arrostito bene. Raspatori che faremo con Amatori? Ci siamo misi pure a Spezia Coppa. Oh, bellissima. Sì, proprio per il suo caratterino, abbia compreso anche quali erano stati gli errori del turnover precedente e quindi oggettivamente... L'ha bilanciato. L'ha bilanciato. ... Grazie a tutti.